Incidente sul lavoro nella mattinata di giovedì 28 maggio intorno alle 11 in un'azienda situata nei pressi di strada Caluso Ciliano tra San Giorgio e San Giusto Canavese. Un operaio è rimasto ferito da un braccio mentre lavorava con un tornio. Sul posto sono prontamente intervenuti la Croce Rossa di San Giorgio Canavese, l'edito soccorso del 118 e i carabinieri di San Giorgio. L'uomo, dopo le prime cure, è stato e è trasportato all'ospedale CTO di Torino. Non è in pericolo di vita. Per le certamenti del caso interverrà, come da prassi, lo spresal dell'Aselto 4. A presto, a presto, a presto. Grazie a tutti.